benvenuta e benvenuto a lezione con sento che posso nella playlist dedicata alle lezioni di antropologia culturale se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornate aggiornato sui video che verranno pubblicati ti invito in oltre a seguire sento che posso sui canali social facebook instagram e twitter con questa video lezione continuiamo a parlare di espressione estetica e affrontiamo il tema dell'arte tribale nel mondo occidentale nel corso del diciannovesimo secolo nascono in europa e negli stati uniti molti musei antropologici ed etnologici viaggiatori commercianti etnologi portano infatti in patria una grande quantità di oggetti provenienti da mondi definiti primitivi e arcaici in italia nel 1906 nasce il primo museo di etnografia a firenze i contributi principali sono del fondatore lamberto loria viaggiatore etnografo che tra il 1883 e il 1898 compie viaggi in lapponia nel caucaso e nell'area del pacifico i criteri espositivi dei diversi oggetti e manufatti riflette in modo significativo le teorie antropologiche prevalenti in quel momento all'inizio sono create delle categorie omogenee ad esempio le armi gli strumenti musicali e i diversi pezzi vengono presentati in ordine di complessità crescente all'inizio la clava per quel che riguarda le armi fino ad arrivare alla balestra poi prevale successivamente una classificazione per aree culturali l'obiettivo diventa presentare le caratteristiche delle culture tipiche di determinate regioni del pianeta dopo la seconda guerra mondiale vengono allestite delle mostre temporanee a tema e molto spesso i pezzi di un museo vengono integrati con oggetti provenienti da altri musei ogni museo tende ad adottare criteri personalizzati specifici alcuni adottano il criterio documentaristico altri il criterio estetico in questo caso i pezzi esposti sono per lo più decontestualizzati quando viene valorizzata la dimensione estetica gli oggetti vengono inglobati nella categoria occidentale di arte per quale motivo questi oggetti cominciano ad essere categorizzati come arte essenzialmente due sono i motivi alla fine dell'ottocento all'inizio del novecento i pittori e gli scultori di avanguardia cominciano a prestare attenzione agli oggetti provenienti dall'america dall'oceania dalle americhe quelli che vengono chiamati les objets sauvages la seconda motivazione è che l'arte tribale comincia ad avere un vero e proprio mercato che oggi vale diverse migliaia di euro gli oggetti inizialmente sono richiesti dai musei etnografici ma parallelamente si sviluppa un mercato privato che si afferma con mostre collezionisti galleristi nel prossimo video approfondiremo ancor più queste tematiche del legame tra oggetti proveniente da questi mondi primitivi arcaici e arte ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto clicca sulla campanella per stare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati se pensi che questo video ti possa essere stato utile o ti è piaciuto metti un like e condividi con tutti coloro che pensi possano essere interessati ai temi delle scienze umane seguimi sui social e aiutami a far crescere il canale continua a seguirmi ciao